Scusate Un prossimo video ... Ciao Ovenez un ca. Ovenez un ca. Ovenez un ca. Ciao Allora, siamo qui riuniti con il servitore Danilo e con me il presentatore Antonio Allora, più di tutto quello di garziare, praticamente, a tutti, almeno dopo una settimana siamo arrivati a 25 membri E, niente, ringrazio a tutti, in particolare, vabbè, a tutti gli amici miei, poi a Centi, forse qualcuno li conosce pure Ringrazio Andrea Scali e Matteo Loccone e basta Danilo e tu a che ringrazio Io ringrazio i miei due amici qua con questo in macchina e poi tutti quelli che conosco pure Un saluto agli amici, gli altri amici E un saluto a tutti per l'attenzione Vabbè, basta Basta E poi se devi venire a andare a cadere Vabbè, niente, ragazzi, ora stiamo facendo un giro in macchina Forse arriviamo fino a Castor Romano, poi a Comezia E poi si torna E poi Stai poi sette e mezza Da un amico mio E poi E poi E poi E poi E poi Non lo vedo da tanto tempo Da tanto tempo Da tanto tempo E vabbè, niente Le auguro A tutti A tutti A me Per ora Ai 25 E di seguirmi ancora E Vabbè, ai prossimi Di Di invitare altri amici loro E Amici loro E semplici Sempre Questo è tutto Io vi saluto E ci vediamo Alla prossima Sempre nel tasto rosso Trovato? Ciao 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 Ciao